Ciao a tutti, Sabrina mi ha chiesto, su quale ruota si giocano i numeri dell'otto. Oggi, ci addentreremo nel fantastico mondo delle teorie e delle credenze popolari, su come scegliere la ruota giusta all'otto in base ai sogni. Prima di iniziare mi raccomando, questo video è solo per divertirci un po', e non vuole assolutamente incoraggiare il gioco d'azzardo. Giocate responsabilmente, sempre. Se siete curiosi di scoprire le teorie più gettonate per scegliere le ruote giuste in base ai vostri sogni, e altro. Pronti a prendere appunti? Si parte! Prima teoria facile facile. La teoria delle consonanti. Questa teoria è una delle più affascinanti e curiose nel mondo della numerologia, e delle credenze popolari. Secondo questa credenza, i numeri che avete sognato, vanno giocati sulla ruota, con la che corrisponde alla prima lettera dell'oggetto principale che avete sognato. Facciamo un esempio. Se avete sognato un orso, la ruota giusta sarebbe Roma, perché la prima consonante è la R. Questo metodo è semplice e intuitivo, e molti lo trovano divertente. Se invece avete sognato un uccello, la ruota da giocare sarebbe Cagliari, per la C. Ogni città ha una ruota associata, e la consonante iniziale dell'oggetto sognato determina la scelta. Se la prima lettera non corrisponde a nessuna ruota, niente paura. Basta passare alla seconda consonante. Semplice, vero? Questo sistema permette di trovare sempre una ruota su cui giocare. Questa teoria si basa sull'idea che il nostro subconscio ci parli attraverso i simboli, come un messaggio in codice. I sogni sono visti come una finestra sul nostro inconscio, e interpretare i simboli può rivelare molto su di noi. Ovviamente, non ci sono basi scientifiche, per scegliere la ruota ma solo credenze. La seconda teoria che rende il mondo del lotto così intrigante. Tre volte sulla prima ruota. Un grande classico. Secondo questa credenza, i numeri che avete sognato vanno giocati per tre estrazioni consecutive sulla ruota di Bari, che è la prima in ordine alfabetico. Questa teoria si basa sull'idea che la ruota di Bari sia la più fortunata, e che la costanza, come in tutte le cose, alla fine paga. Ad esempio, se avete sognato il numero 23, dovreste giocarlo per tre estrazioni di fila sulla ruota di Bari, e incrociare le dita. Per interpretare i sogni e trasformarli in numeri da giocare uno tra i libri più famosi, la smorfia, vi lascio il link in descrizione. E se vi dicessi che la ruota giusta dipende da cosa avete sognato? Immaginate di poter decifrare i vostri sogni e collegarli a numeri specifici per il gioco dell'otto. Non sarebbe affascinante? La terza teoria si basa proprio su questo. Il tema principale del vostro sogno. Ogni sogno, ha un significato nascosto che può essere rivelato attraverso l'analisi del tema. Secondo questa teoria, ogni ruota è associata a un tema specifico. Ad esempio, i sogni possono essere suddivisi in diverse categorie, ognuna legata a una città italiana. Bari. Sogni di persone scomparse defunte. Se avete sognato qualcuno che non c'è più, la ruota di Bari potrebbe essere quella giusta. Cagliari. Sogni di natura e animali. Sogni di foreste, montagne o animali selvatici. Firenze. Sogni di arte e musei. Se il vostro sogno è pieno di opere d'arte e musei quadri, arte e artisti. Genova. Sogni di acqua e mare. Sogni di onde, spiagge e mari infiniti. Milano. Sogni di affari e successo economico. Napoli. Sogni di eventi felici. Sogni di feste, celebrazioni matrimoni e momenti gioiosi. Palermo. Sogni di giustizia e crimini, rapine, misteri. Roma. Sogni di politica e religione. Sogni di potere, politica e simboli religiosi. Torino. Sogni di lavoro, di innovazione, nobili e re. Venezia. Sogni di cultura, scuola, scrittori e poeti. Insomma, con questa teoria avete l'imbarazzo della scelta. Ogni sogno può essere collegato a una città e a una ruota specifica. Però, mi raccomando, analizzate bene il vostro sogno per individuare il tema principale. Solo così potrete scegliere la ruota giusta e magari vincere all'otto. E se la soluzione fosse la più semplice di tutte? A volte, le risposte più ovvie sono proprio davanti ai nostri occhi. La quarta teoria si basa sulla vicinanza, geografica in questo caso. Giocare i numeri sulla ruota della città, a voi più vicina. Immaginate di poter sfruttare la connessione con il luogo in cui vivete, per aumentare le vostre possibilità di vincita. Questa teoria si basa sull'idea che ci sia un legame speciale, una specie di energia, tra noi, e il luogo in cui viviamo. Ogni città, ha una sua vibrazione unica. E noi, vivendo lì, ne diventiamo parte integrante. Quindi, se vivete a Roma, la ruota su cui giocare, sarebbe quella di Roma. La città eterna, con la sua storia e la sua cultura, potrebbe influenzare positivamente la vostra fortuna. Se vivete a Milano, la ruota da giocare sarebbe quella di Milano, e così via. Milano, con il suo dinamismo e la sua modernità, potrebbe essere la chiave del vostro successo. Questa teoria è sicuramente la più facile da applicare. Non c'è bisogno di interpretare il sogno, o di conoscere teorie complicate. Basta sapere dove vivete e giocare di conseguenza. Però, potreste pensare, che non tiene conto di cosa avete sognato, giusto? I sogni sono una parte importante della nostra vita. E spesso contengono messaggi nascosti. In questo caso, potreste usarla come punto di partenza, e poi, modificarla in base agli altri elementi del vostro sogno. Ad esempio, se avete sognato un particolare numero o simbolo, potreste integrarlo nella vostra scelta finale. Così facendo, combinerete la semplicità della teoria della vicinanza, con la profondità dei vostri sogni, creando una strategia personalizzata e potenzialmente vincente. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, attraverso le teorie su come scegliere la ruota su cui giocare i numeri che sogniamo. Mi raccomando, non esiste una formula magica, o un metodo infallibile per vincere all'otto. La scelta finale, spetta sempre a voi. L'importante è giocare per divertirsi, senza esagerare e senza farsi prendere dalla voglia di vincere. Ricordate che la vera vittoria sta nel vivere la vita con gioia e serenità, che esca il vostro numero oppure no. E voi, quale teoria vi ha convinto di più? Avete già provato ad applicarne qualcuna? Fatemi sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. In bocca al lupo!